buongiorno a tutti buongiorno a tutte in particolare saluto i ragazzi e le ragazze che si avviano a iniziare il nuovo corso per tecnico sportivo i loro insegnanti e tutti i tutor e anche tutte quelle persone che renderanno questo percorso un percorso intenso in cui davvero imparare facendo sia uno stimolo per investire su se stessi sul proprio futuro ringrazio galdus perché sta guardando insieme a noi alle olimpiadi del 2026 senza semplicemente attenderle ma lavorando perché sia un percorso intenso denso di esperienze e capace di proiettare tutti noi in un futuro anche legato all'occupazione e alle nuove professioni che sicuramente lo sport ci permetterà di esercitare un ringraziamento lo faccio anche a nome del comune dell'amministrazione comunale che ha cercato in tutti i modi di mettersi a disposizione di permettere al corso di avere anche quelle strutture come la piscina mincio e alcuni alcuni luoghi che con milano sport abbiamo individuato che permetteranno di realizzare un corso di qualità in sicurezza con un distanziamento che non impedisca però tutta quella parte pratica che è così significativa e allora grazie grazie perché investire sul futuro di ciascuno di voi significa credere che abbiamo bisogno di lavorare ancora molto perché il futuro è tutto da costruire buon lavoro